Ciao a tutti, sono Daniele Tentori e ho la fortuna di essere un diamante della Snap. Allora, in questo piccolo video voglio raccontare un po' la mia storia. Allora, io ho iniziato a collaborare con Snap perché cercavo un'opportunità lavorativa che nello stesso tempo mi desse l'opportunità di lavorare quando voglio e dove volevo, quindi è più che altro lavorare per me stesso, decidere io quando, insomma. Sono una persona che piace molto viaggiare, piace fare qualsiasi tipo di sport, quindi la cosa più importante per me è il tempo, è il tempo da dedicare a me stesso. E fortunatamente con Snap sono riuscito a unire sia la parte economica che la parte di gestione del tempo. Questo non vuol dire non lavorare, ma lavorare quando vuoi e dove vuoi. Perché Snap? Perché ho scelto Snap? Perché è un'azienda completamente italiana, è un'azienda solida, certificata anche da Vedisco, che mi dà l'opportunità di avere una crescita professionale, quindi vuol dire avere una formazione, avere nell'interno tante persone competenti, positive, propositive, che appunto creano una formazione, un team veramente di persone valide e molto molto capaci. Tutto questo ti porta a lavorare, quindi avere una crescita professionale, una crescita personale anche, oltre a una crescita economica veramente importante. Poi logicamente è data dal proprio impegno, ognuno può decidere anche il proprio guadagno in base a se dedicarsi tanto o poco, in base al tempo che ognuno ha, quindi è un'attività che ti crea molta libertà. Poi inoltre ha la crescita professionale, la crescita economica, perché è un lavoro, c'è anche la crescita personale. Questo farà sì, questo lavoro, lavorare Snap ti farà conoscere persone molto positive, molto propositive. La mia soddisfazione migliore è vedere il mio team che cresce, tutte le persone di Snap che crescono, imparano, diventano, durante i corsi di formazione diventano sempre più preparati e Snap ti da questo, la preparazione, la formazione. E vi garantisco che la soddisfazione migliore è vedere le persone che crescono e fanno le qualifiche e trasformano questo lavoro in una vera attività di business, quindi con la possibilità di lavorare da casa quando vogliono e dove vogliono. Detto questo vi consiglio vivamente di iniziare a collaborare con Snap che vi darà una formazione, un metodo per aumentare la vostra professionalità e se aumenta la vostra professionalità diventate sempre più bravi, se diventate sempre più bravi aumenta anche il vostro guadagno e quindi la vostra gestione del tempo. Nessuno vi dirà più quando lavorare e dove lavorare, lo decidete voi, voi sarete gli artefici della vostra attività. Quindi vi consiglio vivamente di iniziare con Snap e togliervi veramente tante soddisfazioni e non parlo di soddisfazioni solo economiche, ma soddisfazioni professionali anche. Quindi un abbraccio a tutti e vi invito a collaborare con Snap il prima possibile per realizzare i vostri sogni e i vostri obiettivi. Ciao a tutti!